Hogger, tieni! No no no, il Lugger! Ciao a tutti Creeper e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars! Sì, è arrivato pure qualcuno, guarda, proprio durante l'intro. Come sempre vi ricordo che per entrare a giocare con me, come sta facendo il mitico noob, dovete semplicemente entrare nel gruppo Telegram, che ho la papera e Clash, che è lì, molto bene. Adesso apriamo le chest come ogni singola volta, magna che laggata pazzesca. Ricompense, oltre a queste qui del nuovo pass, che vabbè non me lo shoppo questa volta perché non ho gemme e non mi metto a spendere soldi sul gioco, abbiamo tutte queste qui del pass precedente che avevo lasciato. Quindi cominciamo ad aprire tutte quante queste cose, tra cui anche varie robe. Ok, partiamo con le casse. No, ma come? Ah, ma sono stupido, questa è la skin! Pensavo di aver trovato un brawler nuovo, cioè ne ho trovati tre negli scorsi video. Che cretino, quella era la skin. Ok, qui abbiamo pure punti che non so chi posso dare. E vabbè, maxi, in top, a caso, ok. Poi, adesso ci sono quelle bonus. Vai, andiamo a aprire queste. Ovviamente non ho trovato nessun brawler, cioè ne ho trovati tre nello scorso episodio. Quindi, fate un po' voi i conti. Benissimo! Comunque abbiamo la skin nuova di Gelindo, che magari andiamo ad utilizzare. Dov'è Gelindo? Non c'è Gelindo. Non c'è? Eccolo. Che è questa? Bella, eh? Però sinceramente Gelindo l'hanno pure depotenziato, fa schifo adesso. Prima sparava un raggio fortissimo, ora spara una cacchetta. Dunque, utilizzerò Spike, che posso migliorare. E perché no? Lo facciamo, certo. E... Via! Facciamo sopravvivenza in due? Ma certo, visto che siamo soltanto in due, facciamo questo. Via! Nel frattempo vi parlo di una fantastica cosa che mi è successa. Mi si è spaccato il telefono, dunque ne ho preso uno nuovo. Mi si è spaccato quello nuovo e adesso ogni tanto si spegne da solo e rimane per dieci minuti, come adesso. Quindi non posso rispondere a quelli su Telegram che mi dicono, oh vogliamo entrare a giocare con te. Ci sarà soltanto Noob, mi sa. E sta dieci minuti di spento, con suscrito Samsung e basta. Ok, molto bello proprio. E ovviamente non c'era l'assicurazione su sto coso che mi sono comprato, dunque me lo devo tenere così. Adesso congettiamoci a giocare, ci sono tantissimi tizi che mi sparano e io gli sto andando addosso. Quindi stiamoci attenti perché quella è in shot pure. Eh, aiutami! Noob, sparagli! Tu che puoi! E Lineage Spuglio! Bravissimo! Distruggilo! Aiuto! Mi sa che è giunta la fine per me. Sparagli! Dai! Dai! Imboscata! Sì! Potentissimi, mamma mia! Grande! Ah, giusto, posso anche dire... Cactus! Aiuto! Via! Aiuto! Cavolo! Boom! Beccati questo! Stupida imitazione! Sono io l'originale! Dove stai andando? Eh? Niente, se ne scappa quello! Sta tornando? Sta tornando? Aiuto! Che succede qui? Un disastro? E' ancora lì! Ecco, lo sapevo! No! Haha! Mi sarebbe piaciuto eh! Avvicinati se ne hai coraggio! Sciocco! Non si avvicina qua! Oddio! Tiè! No! Il... Ma com'è? Com'è successo ciò? Perché il mio stupido wifi mi abbandona proprio in questi momenti? Ah eccolo! Ciao! Beccati questo! Tiè! Mossabile! Tiè! Mi sa che è morto! Bravissimo amico! Grande! Mmm! Siamo ancora in tre squadre in questo spazio ridicolo! Oh cavolo! C'è una bomba ambulante lì! Oh cavolo! Aiuto! Aiuto! Aiuto alla fine! Ah! Mi è bloccato! Vabbè lasciamo stare! Guarda lì il disastro! Grande! Eh sì adesso arriva pure l'amico! No! È sempre lui! No! Se vince quello... Eh mi sa che vince quello! Vabbè! È stato bello! Ma che è sta roba! Ma è rapina! Ci sono le macchinine! Ma cos'è? Ma... Ma... Ma che... Guarda che storia! Oddio! Ok! Volevo fare un po' di rapina per cambiare un po' sempre con noob e basta! Perché non c'è nessun altro al momento! Oddio! E poi si lamentano che non... Non faccio mai giocare nessuno! Vabbè comunque! Guarda che... Che bello che è! Ci sono tutte le macchinine! I palazzi! E... E... Credo che stiamo vincendo per ora! Ok! Wow! Dai evito tutti con stile! Aha! Vieni qui! È un po' invincibile questo! Ecco appunto! Hogger! Tieni! No no no! Il lag! Ogger! E l'ho ucciso lo stesso però perché sono abile! No mi sa che c'ho avuto solo fortuna! Ok! Schivo tutti! E vado... A distruggere... Frank Spacca! E vabbè gli ha dato solo un colpo! Però quello... C'ha i tornadi d'acqua lì! Ma che è sta storia? Nub c'ha i tornadi d'acqua! Sarà una skin con tanto di abilità! Qualcosa del genere! E ormai abbiamo vinto comunque! Eh mamma mia! Troppo potenti! Quindi ragazzi direi che per oggi è tutto! E noi ci vediamo al prossimo video! Lasciate un mi piace! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Asci Home! Ciao a tutti!